Allora siamo arrivati al punto che abbiamo creato il nostro docker-compose.iml file come possiamo osservare qui composto dai seguenti servizi abbiamo una parte database la cui immagine è Redis e una parte web la cui immagine è un web server Nginx quindi adesso noi procediamo con l'esecuzione di questi servizi non come si sarebbe fatto normalmente tramite il comando docker run eccetera eccetera ma utilizziamo il comando docker-compose app quindi digitiamo docker-compose qui possiamo anche vedere il comando che utilizzeremo app create start containers ciò che vogliamo fare noi per cui docker-compose app e utilizziamo anche meno d per farlo in detach mode quindi docker-compose app meno d invio e adesso attendiamo che venga eseguito il tutto ovviamente noi abbiamo già queste immagini presenti quindi non siamo stati a effettuare il pooling quindi docker-image-ls probabilmente ci saranno entrambe Redis Nginx quindi le abbiamo già quindi abbiamo semplicemente eseguito questi container e adesso per verificare che effettivamente sia in esecuzione si digita il comando docker-ps e come possiamo osservare abbiamo i due container in esecuzione e quindi il cui name è compose file web 1 compose database underscore 1 assegnato da docker-compose quindi questo è già un punto molto importante perché con un singolo comando col docker-compose app siamo stati in grado di eseguire questi container in maniera molto molto rapida l'alternativa era farlo da linea di comando tramite docker con il comando docker-run quindi questo già ci mette in luce il grande vantaggio di utilizzare questo strumento l'altra operazione che possiamo svolgere è lo stop di questi container e quindi del servizio docker-compose quindi docker-compose stop stopperà entrambi i servizi ovvero i container invio l'operazione è stata già eseguita verifichiamo docker-ps e infatti non abbiamo più alcun container presente ovviamente i container sono stoppati quindi se digito il comando docker-all posso comunque ritrovare i miei due container questi che vediamo qui vediamo Grazie.